Salve a tutti cari amici e bentornati, se già mi conoscete, benvenuti, se è la vostra prima volta, sul mio canale, in un nuovo video di Aiden Ring. Sono sempre il vostro Sion ControSilver, e che dire, oggi vedremo in questo video come moltiplicare da una a due le rimembranze che ci donano certi boss. Nel nostro caso ne abbiamo una disponibile, che è quella di Rennala, i boss dell'Accademia, ecco qui, rimembranza della Regina dei Pleni Unio. Quando voi otterrete una rimembranza, di solito è con quella di Godric, che succede perché è prima un boss che si butta giù, vi si aprirà questa porta alla tavola rotonda, e qua dentro ci sarà, oltre a questa strana creatura chiamata Due Dita, che vi donerà una gesture nel momento in cui ci interagirete, l'anziana Enia, mi sembra che sia questo suo nome, che ci permette appunto di fare acquisti presso il suo negozio. Ottieni il potere dalla rimembranza. Ecco qua, allora, quella utilizzabile è quella della Regina dei Pleni Unio, che ci può dare lo scetto regale Cariano, che in teoria dovrebbe essere un catalizzatore per le stregonerie, infatti, e abbiamo anche il pleni unio di Rennala, che è la sua magia, appunto la sua stregoneria. Noi abbiamo una sola unità, però vogliamo entrambi le ricompense. Come facciamo? Semplice. Prendiamo la mappa del mondo, e dobbiamo cercare una delle cinque creature, che sono appunto, come dire, delle specie di tartarugone. Portiamoci qua al cancello orientale di Raya Lucaria, più o meno a nord della palude dove c'è l'Accademia di Raya, dove abbiamo affrontato Rennala. Chiamiamo il nostro torrente, e qua dovremo cercare una creatura, la vedrete molto grande, sentite già la campana, eccola, vedete? Perfetto, eccola. E' quella specie di tartaruga che cammina con un santuario sulla schiena. Noi dobbiamo riuscire a salire lì sopra. Innanzitutto la cosa più difficile è scendere. Ragazzi, scendere è la cosa più difficile. Non sempre va bene. Vai. Ok. Perfetto. Ok, intanto recuperiamo anche le mie poche rune che avevo perso, cercando di scendere in precedenza. Ragazzi, non faccio mistero dei miei insuccessi, eh. Ecco qua, siamo giù. Allora, raggiungiamo la creatura, e per salire su questa creatura ci servirà il mulinello di vento che c'è in questa zona. Eccola. Siamo un po' lontani, però. Prendiamo una misura. Vai torrente. No. Ragazzi, potreste doverlo provare più volte. Dai, dai. Ok, eccoci. Allora, scendete e adesso coipite queste formazioni cristalline. Vediamo che la creatura si sta inabissando. E noi... Uh! E ci butta anche lì sotto. Non siamo morti, va tutto bene! Ecco qua. Vedete, si è inabissata. E noi possiamo entrare in questo santuario. Ecco qua. Dove c'è questa creatura, questo sarcofago. Esaminati i resti. E... ah, ci permette ancora di avere una rimembranza di Godric. Noi, però, serve quella della regina dei primi uni. Quindi, la duplichiamo. E adesso... Pardon. Andate a vedere. Avete due rimembranze della regina dei primi uni. Che vi permetteranno di ottenere tutte e due ricompense che ci eravamo prefissati di avere. Eccoci qua. Dunque, signori, che dire. Se questo video vi è stato utile per capire come moltiplicare rimembranze, io vi chiedo di piazzare un pollice su, un like che aiuta una cifra, ovviamente, questo canale. Ma, soprattutto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, iscrivendovi se vi piacciono i miei contenuti e attivando la campanella saprete sempre quando vado online con un nuovo contenuto di Eden Ring. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti di aver visto questo video e che altro dire. Ciao ciao e al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.